Adesso faccio la scagliola per fare la prima controforma qui Quando si asciuga cavo tutta questa crete che mi ha fatto evitare matto per attaccargliela E poi faccio la seconda parte Se tutto va bene oggi se lo stampo è venuto bene Cosa di cui sarò assicuro solo quando lo estererò per fare delle varianti Adesso si possa vedere la prima colata della pipa d'oro Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! 9 novembre Il lunedì è il dono Quarizio 7 e 59 Prima quarta E Pide e ora Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!